Luca Marina e Valentina Pegorer stanno insieme? Il gossip Tra Luca Marina e Valentina Pegorer è nato un sentimento? A quanto pare tra Luca Marina e Valentina Pegorer è nato un particolare e speciale feeling. I due parteciperanno presto a Dance Dance Dance, lo show sul ballo di Sky. Luca Marina e Valentina Pegorer hanno trascorso una giornata insieme tra le vie di Roma. E' stato proprio il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a fotografarli insieme. I due, seduti in un bar, davano l'impressione di essere piuttosto intimi. Ad un certo punto, c'è stato un curioso avvicinamento tra i due, ma non si è capito se si è trattato di un bacio oppure una confidenza all'orecchio. Valentina Pegorer è stata impegnata fino a qualche giorno fa con la partecipazione a Pechino Express. La Pegorer ha vinto il programma insieme alla sua amica Emma Stoccolma, nella coppia delle Clubber. Per la prima volta nella storia di Pechino Express a vincere è stata una coppia di sole donne. . Luca Marina e Valentina Pegorer parteciperanno a Dance Dance Dance. . L'ex nuotatore ha conquistato molti successi durante la sua carriera. . Adesso parteciperà insieme a Valentina Pegorer a Dance Dance Dance. . In molti continuano a chiedersi se tra i due sia davvero nato un sentimento. . Intanto, Luca Marina ha postato una foto insieme a Valentina Pegorer, chiedendosi con ironia se oltre ad essere belli saranno anche in grado di ballare. . 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